Siamo soddisfattissimi, siamo felicissimi di questa vittoria, ringraziamo soprattutto il pubblico perché ci è stato veramente vicino, erano tantissimi, ne bisogna non aver mai visto così tanta gente in piscina e ci hanno aiutato un sacco, è stata una partita difficile e penso che loro ci abbiano dato quell'energia in più per vincere la partita. E niente, adesso siamo qua, festeggiamo e abbiamo fatto i caroselli anche domenica sera e basta.